Dimostrare che la vittoria di Brescia non è stata un caso isolato, questa la missione del Bari in vista della sfida a Casalinga all'Ascoli in programma sabato alle 14 per la dodicesima giornata di campionato. Alla vigilia dell'incrocio con i marchigiani Pasquale Marino mette da parte le statistiche quelle di una squadra che al San Nicola non trova i tre punti dal 2 giugno. Questo non ci deve condizionare, non ci deve assillare, l'importante era tornare a vincere, quindi l'abbiamo fatto e questo ci deve dare una spinta anche dal punto di vista mentale ad affrontare l'Ascoli che è una partita ostica, sappiamo che tutte le gare sono sempre difficili e non abbiamo ancora fatto niente perché abbiamo fatto una partita e dobbiamo dare continuità a quello che è stato fatto. Migliorare l'approccio alla partita rispetto a quelli visti contro Modena e Brescia nelle due uscite della gestione Marino sarà la priorità. L'allenatore spiega su quali tasti ha premuto in settimana. Intanto cercheremo di fare 90 minuti perché la settimana scorsa magari il primo tempo non siamo stati quelli del secondo tempo, per cui da questo punto di vista dobbiamo crescere come atteggiamento fino dall'inizio e quindi ci aspettiamo sempre passi avanti per come stiamo lavorando, per come si stanno impegnando i ragazzi e è lecito aspettarsi sempre ogni partita a miglioramento. Di fronte un Ascoli sconfitto nell'ultima partita di campionato dal Parma ma capace di mettere prima a referto cinque risultati utili di fila, i numeri della squadra di William Viali parlano chiaro, formazione che segna parecchio ma concede occasioni. Sappiamo di avere davanti un avversario che giocano bene, attaccano con tantissimi uomini per farci male e questo dobbiamo essere consapevoli, però dobbiamo cercare di imporci dal punto di vista del gioco. Sappiamo che è una squadra molto tecnica, spesso giocano anche con tre attaccanti, più gente come Falzerano che sono gente di spinta, gente che aggredisce la profondità, insomma è una squadra abbastanza organizzata. 24 i convocati in casa biancorossa e i lungodegenti Maiello e Menez si sommano lo squalificato di Cesare e l'acciaccato Benali. La buona notizia è la presenza in lista di Francesco Vicari. Il difensore proverà a stringere i denti dopo il problema all'adduttore accusato a Brescia. Vicari si è allenato oggi regolarmente, quindi tre convocati. Per quanto riguarda gli altri, credo che nel Bari ci siano giocatori che comunque se fanno parte di una rosa come il Bari, significa che sono comunque all'altezza. Ci fa piacere che l'abbiamo recuperato, nel senso che se è disponibile, se è allenato stamattina, se è allenato tutta la settimana a parte, vediamo domani, parlerò con il ragazzo. Possibile l'adozione dal primo minuto del 3-5-2 visto in corso d'opera a Brescia, con uno tra Matino e Zuzek in difesa e Ricci preferito a Frabotta a sinistra. Tra i convocati si rivede Maita. La squadra per come sta lavorando, vedo che c'è tanto entusiasmo e voglia di migliorare la situazione attuale da parte dei ragazzi. Per quanto riguarda Maita, io la formazione la do prima ai giocatori, poi la dico, quindi non la do prima. Quindi se è allenato bene, può essere, è disponibile. Fischio d'inizio alle 14, circa 15.000 le presenze attese sugli spalti, arbitra Daniele Rutella della sezione di Enna.